e puoi essere tu per favore non ti seguo la ragazza tu ma non sono una ragazza sono uno squalo ehi hai mai messo la testa nella bocca di uno di questi dovevo restare in prigione mi stai fissando qualcuno voleva la pizza puoi per favore essere normale per un secondo normale penso che sarebbe più facile se fossi una ragazza più facile essere una ragazza se esilarante intendo più facile se apparissi umana più facile per chi per te tante persone non sono aperte come me come sei diventata così vuoi dire strepitosa no come sei sto cercando di capire con cosa ho a che fare io sono mimona questa è la parte in cui scappate no 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 sto lontano no no non è possibile oh no 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 oh per favore un rinoceronte lascia lottare prendi questo no 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 pesca meno pesca meno che cosa sei? sono limona quindi sei una ragazza e un rinoceronte? sono tante cose ma che succede? no 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 ti senti bene? no avevi promesso vai sì avevi promesso di non svalvolare no vai a destra ah ah questo pavimento è molto stabile ah adesso sì ah 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 attravento qui ah 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 Non andiamo giù, non andiamo giù, diamo la scala, non andiamo giù!